Tre punti sotto l'albero per guardare al futuro con maggiore serenità. Grazie alle reti dei suoi due bomber, Maniero e Melchiorri, il Pescara è tornato alla vittoria casalinga che mancava dalla gara col Frosinone. All'Adriatico il Varese, che pure ha giocato una gara coraggiosa, è stato costretto a pagare Dazio, mancando anche qualche buona opportunità. Tre punti di buon augurio e che permettono, nonostante tutto, al Delfino di portarsi a quattro lunghezze dalla zona play-off. Pronti via il Pescara al quarto già in gol, Borghese atterra in area Maniero lanciato a rete. Rigore rosso per l'ex Biancazzurro con il vantaggio del Pescara che può mettere la gara sui binari più congeniali. In dieci gli ospiti fanno quello che possono e rischiano di approfittare di qualche errore della difesa Biancazzurra come accade al diciassettesimo quando dopo una palla persa da Zampano, il Varese guadagna una punizione che Zecchini per poco non trasforma in rete. Ancora più clamorosa l'opportunità che capita qualche secondo dopo, Selasi da palla indietro ad Aresti che tocca con la mano e punizione indiretta in area con Zecchin che trova il salvataggio sulla linea di Memushai. Ile Pescara fa la partita ma non riesce ad essere granché incisivo, al venticinquesimo c'è però un tiro di Memushai che chiama alla parata Bastianoni. L'ultima emozione del primo tempo è targata ancora Pescara con Melchiorri che non è però fortunato nella conclusione. Nella ripresa subito uno spavento per la squadra di Marco Baroni con Barberis che si divora il pareggio tirando a lato. Ile Pescara chiude però la gara al quinto, azione travolgente ancora di Memushai che poi lascia a Maniero che serve su un piatto d'argento un pallone a Melchiorri che deve solo appoggiarlo in rete. Gara chiusa o quasi anche se la squadra di Bettinelli non ci sta. Al ventesimo Luoni manca il tocco davanti ad Aresti anche se dall'altra parte i biancorosi rischiano di subire il terzo gol con Melchiorri che impatta bene di testa trovando però la parata dell'estremo Lombardo. Ile finale questa volta è senza batticuore con una conclusione fuori misura di Zecchin e un tiro sull'esterno della rete del neoentrato da Silva. Ile Pescara può far festa e ricevere questa volta anche gli applausi della Curva Nord ma a Livorno occorrerà una pronta conferma.